L'approvazione del rendiconto del 2015 sembra essere davvero toccata dalla maledizione. A pochi giorni dalle felicitazioni del sindaco di Giarre Angelo Danna e dell'assessore alle finanze Salvo Vitali, domani per alto dell'approvazione giunta del documento finanziario, giunge una nuova doccia fredda, questa volta dal collegio dei revisori dei conti. In una nota trasmessa al sindaco, al commissario ad acta, il collegio che il 20 aprile scorso aveva ricevuto la proposta di deliberazione della giunta con i relativi allegati non ha dato il proprio disco verde, giacché come si legge nella nota dei revisori, a pagina 29 della relazione al rendiconto di gestione 2015, la tabella gestione di competenza evidenzia un avanzo effettivo della parte conto capitale di circa 704 mila euro. Tale avanzo, secondo i revisori, doveva essere invece evidenziato all'interno della tabella risultato di amministrazione scomposto ai fini dell'utilizzo ripiano, modificando il valore della voce e fondi non vincolati, cambiando quindi il risultato complessivo di amministrazione. Secondo i revisori, l'importo di circa 704 mila euro potrebbe variare nel caso in cui esistono entrate della gestione in conto capitale che finanziano spese correnti. L'organo di revisione, pertanto, richiede di effettuare le relative modifiche nella relazione al rendiconto. In riferimento poi ai prospetti, servizio idrico integrato, 2015, costi, servizio igiene urbana, sempre anno 2015, i revisori chiedono come siano stati determinati gli importi imputati alla quota parte costi generale di amministrazione. Si richiedono inoltre i prospetti che evidenziano anche la quota capitale e la quota interessi passivi relativi ai mutui e alle anticipazioni di liquidità ricevute dalla Cassa Deposite e Prestiti. Dal canto su, l'assessore alle finanze Salvo Vitale afferma che relativamente ai rilievi evidenziati dal Collegio dei Revisori dei Conti sono state comunque soddisfatte tutte le richieste, così da consentire il regolare proseguo dell'itere procedulare del rendiconto di gestione 2015 prima della sua definitiva approvazione in Consiglio Comunale. Grazie! Grazie a tutti.